Il Presidente del Rimini Fabrizio De Meis torna a parlare dopo la conferenza stampa ormai di un mesetto fa per dire cosa? Niente, per fare un po' di chiarezza perché sono uscite un po' di notizie sui giornali, chiaramente visto che sono passati parecchi giorni da quando abbiamo fatto la conferenza stampa in merito a questo importantissimo accordo che dovrebbe essere firmato con una parte della vecchia compagine societaria in merito all'acquisizione da parte loro dei debiti della Banca dei Rimini e poi da parte del nostro gruppo di tutti i debiti che sono stati accumulati negli anni con i fornitori e con i dipendenti e con l'erario. I tempi sono andati molto oltre le aspettative ma assolutamente non per responsabilità loro ma purtroppo ci sono stati dei forti ritardi a livello burocratici per avere tutti i documenti che ci permettevano anche di sottoscrivere questo accordo quindi gli avvocati nostri di parte del Rimini hanno completato ieri questo eventuale contratto che sarà consegnato tra la giornata di oggi e lunedì a tutti i soci che chiaramente poi con i loro legali poi valuteranno se tutto può andare bene e quindi speriamo assolutamente di firmare la prossima settimana però ecco non è responsabilità di nessuno né da parte nostra né da parte loro purtroppo delle lungaggi burocratici indipendenti da tutti che speriamo insomma siano risolte all'ialo burocratico sono state risolte adesso speriamo invece che la prossima settimana entriamo insomma nella firma del documento solo dopo la firma ci saranno gli annunci ufficiali si parla insomma di un accordo già fatto una stretta di mano con il pastore Mangiarano per i ruoli rispettivamente di direttore sportivo e direttore generale diciamo che chiaramente Rimini nello stato attuale delle cose non può firmare contratti perché chiaramente questo accordo con la vecchia compagine societaria è indispensabile per proseguire per proseguire insomma i grandi impegni che ci sono chiaramente nel frattempo noi ci siamo mossi visto che poi tra parto da parte loro c'è stato proprio un impegno verbale a diciamo a firmare questo contratto che ripeto è stato sia a lunga di tempi non per motivi derivanti da loro chiaramente abbiamo lavorato come ho detto in conferenza stampa per come la valutazione che abbiamo fatto come società che in questo momento c'è da ricostruire sia tutta la parte sportiva ma anche proprio tutta la parte della struttura societaria che secondo me è ugualmente importante quindi abbiamo individuato nelle figure di Giuseppe Mangiarano in qualità di direttore generale di Ivano Pastore in qualità di direttore sportivo le figure a cui affidare questa ricostruzione chiaramente Ivano Pastore avrà tutta la responsabilità di ricostruire tutta la parte sportiva mentre Mangiarano ha la responsabilità di ricostruire tutta quella che è la parte gestionale, amministrativa, tutto quanto Marco Palazzi dovrebbe passare al ruolo di amministratore delegato e io ritenevo che proprio nello stato attuale in cui era in Rimini fosse fondamentale che ci fosse un nuovo direttore generale che comunque avesse molta esperienza e Mangiarano sicuramente lo è visto che comunque ha già esperienza in serie A, in serie B quindi conosce alla perfezione al di là poi di tutto quello che è la conoscenza federale ma anche poi di tutto quello che sono i meccanismi di funzionamento di una società sportiva e quindi con lui ci siamo presi, insomma si prenderà l'impegno di ricostruire tutta la parte strutturale della società che ripeto ritengo sia fondamentale perché al di là poi dell'allenatore, dei calciatori che possono essere bravi poi la squadra va supportata da una società che deve essere organizzata e il mio obiettivo è quello di costruire una società che a livello organizzativo sia una società di serie A e quindi partendo dalla figura del direttore generale a tutte le figure che lavoreranno nel Rimini chiaramente noi ci dobbiamo calare in una realtà che è un campionato che purtroppo per noi si chiama serie D però a parte i 90-95 minuti della partita della domenica noi dobbiamo ragionare come una società professionistica ed è secondo me un atteggiamento assolutamente indispensabile per una società e una piazza così blasonata come Rimini e quindi ho ritenuto di aggiungere questa figura di direttore generale con competenze proprio specifiche calcio chiaramente come dicevo prima non siamo in grado di fare contratti quindi sia con Mangiarano che con Pastore sono stati chiaramente solamente degli accordi verbali siamo dati una stretta di mano che chiaramente poi speriamo di formalizzare immediatamente il giorno dopo ad avere firmato il contratto con i vecchi soci Se non ha fatto anche altri nomi quanto era stato vicino lo giudice che era quello diciamo più gettonato prima di Pastore? Ma guarda ti devo dire la scelta del direttore sportivo era comunque una scelta diciamo credo la più importante ma anche non dico la più importante però diciamo la più difficoltosa perché mentre sul direttore generale a livello di competenze e di conoscenze della persona eravamo molto convinti sul discorso del direttore sportivo abbiamo fatto nemmeno quanti collochi veramente tanti e poi alla fine la scelta è rigaduta su Ivano Pastore perché abbiamo ritenuto che fosse la persona più indicata e abbiamo cercato di trovare delle figure che comunque avessero a livello dirigenziale avessero già vinto Ivano è una persona che ha già vinto dei campionati e quindi questo chiaramente è stato un motivo in più che ci ha spinto poi chiaramente quelle sono anche scelte indirizzate in quel momento dalle sensazioni che ti trasmette una persona piuttosto che un'altra quello che posso dire è che con lo giudice c'è sicuramente un rapporto di grande estima anche gli amicizi ci siamo salutati anche in questi giorni delle finali primavera però insomma lui aveva anche poi tra parentesi una sua trattativa con la Juve Stabia che è andata in porto noi avevamo insomma anche altre strade e alla fine la scelta è rigaduta su Ivano Pastore Sarà sicuramente Serie D? Sì purtroppo sì, vorrei utilizzare delle frasi più forti però insomma quello che posso dire è che avendo visto i meccanismi di ripescaggio quello che posso dire è che sarà fatta una clamorosa ingiustizia ancora una volta ai danni del Rimini poi penso che Rimini sia beffato due o tre volte perché noi siamo capitati nel mezzo di una riforma che ha previsto nove retrocessioni chiaramente in un campionato normale arrivando sest'ultimo non saremmo retrocessi quindi abbiamo perso una categoria in virtù di una riforma che prevedeva non tre retrocessioni ma sei ma nove abbiamo perso lo status di professionista che significa perdere tutto il parco giocatori e tutti i contratti e tutti i giocatori che avevamo tra cui anche giocatori importanti giocatori che avevano del valore sul mercato oltre tutto questo ci viene impedito di fare un ripescaggio in un momento di riforma totale perché quattro anni fa il Rimini tecnicamente è stato ripescato almeno così risulta dai documenti federali però tutti sanno che il Rimini non è stato ripescato perché comunque ha partecipato a dei play-off dove tutte le squadre che erano arrivate seconde e ha vinto sul campo il diritto di partecipare alla Lega purtroppo il documento che parla del Rimini non parla di ammissione diretta alla Lega però di seconda divisione ma parla di ripescaggio oltretutto le modalità di ripescaggio non hanno mai compreso questa è la prima volta che vengono escluse le società che sono state ripescate in altre categorie perché come voi sapete prima il Rimini non sarebbe potuto essere ripescato in seconda divisione mentre il Rimini non ha mai avuto nessun ripescaggio in Lega Pro prima divisione quindi è veramente un'ingiustizia totale anche perché facendo un calcolo tra le graduatorie la Rimini Calcio probabilmente avrebbe avuto tutti i diritti di accedere alla Lega Pro quindi è un'ingiustizia tutta la riforma fare retrocedere nuove squadre credo che sia un'ingiustizia il fatto che sia stato tolto lo status di professionista a nuove squadre in un unico campionato che ripeto a livello societario è un danno economico e un danno matrimoniale enorme oltre che un danno sportivo e oltre a tutto questo abbiamo subito questa riforma addirittura veniamo escludi da ripescaggio perché quattro anni fa il Rimini ha vinto i playoff sul campo e tecnicamente invece di mettere per meriti sportivi hanno inserito per ripescaggio e poi alla fine hanno cambiato la normativa dove invece di quello che è sempre stato cioè il Rimini non poteva essere ripescato in Lega Pro seconda divisione il Rimini non può essere ripescato in Lega Pro e questo dal nostro punto di vista è inaccettabile è un'ingiustizia totale però chiaramente purtroppo non possiamo che subirla e metterci al lavoro per tornare nella Lega Pro il prima possibile Tornando alle figure dopo direttore sportivo e direttore generale insomma si parlerà dell'allenatore qui si parla di Salvatore Campilongo in pole position Diciamo che il mister Campilongo è sicuramente un allenatore che ha diciamo dalla sua parte un curriculum che poi gli allenatori hanno perché lui ha allenato e fatto bene sia in Serie C a parte allenato anche in Serie B ma anche e soprattutto nella Serie D dove ha vinto lo Scudetto due anni fa però devo dirti che al momento è solamente un'ipotesi nel senso che con gli allenatori non abbiamo fatto nessun incontro sicuramente lui è una persona che potrebbe avere un curriculum che può interessare a Rimini però devo dire dirti che oggi c'è una trattativa ti dico una cosa non reale nel senso che ad oggi abbiamo praticamente definito direttore generale, direttore sportivo e l'allenatore ci metteremo al lavoro la prossima settimana sempre in una condizione ripeto di difficoltà perché poi quando chiami un allenatore e dici guardi mister facciamo questa proposta di venire a Rimini però non posso firmare il contratto devi poi trovare veramente come abbiamo trovato secondo me nel direttore sportivo nel direttore generale delle persone che vogliono venire a Rimini e magari ti aspettano anche i 7-10 giorni per firmare il contratto e poi magari, non so, dico il mister per dire può avere oggi una proposta di Rimini che non può firmare è una proposta di un'altra società che può firmare domani e magari firma proprio perché Rimini non può firmare quindi noi siamo in questa situazione dove tutto procede come se andasse tutto bene ma all'atto pratico purtroppo siamo bloccati però tornando alla tua domanda lui è una persona che sicuramente potrebbe avere il curriculum quindi sicuramente potrebbe interessarci ma ad oggi non c'è nulla di concreto gli incontri cominceranno la prossima settimana con gli allenatori La prima parte del ritiro sarà a Norcia, è già stato deciso? Sì, anche questo abbiamo opzionato anche lì devo ringraziare i proprietari delle strutture di Norcia che ci hanno fatto questa cortesia di fare questa opzione quindi neanche quella formalizzata dove la squadra dovrebbe andare a tiro dal 27 luglio a Norcia è una struttura molto conosciuta insomma che ha tutte le strutture per mettere in condizione l'allenatore, il preparatore atletico e i giocatori di prepararsi al meglio per la nuova stagione quindi abbiamo tutta la struttura sportiva quella del Salicone quindi quella per intenderci che è dalle piscine alla sabbia ai percorsi misti alla palestra, chiaramente al campo e quindi siamo andati a prendere penso una delle strutture più preparate ad ospitare una squadra di calcio per preparare la stagione quindi al momento ci siamo reciprocamente confermati questa opzione e anche quella speriamo di sottoscriverla la prossima settimana Invece l'ultima parte sarà in una località più vicina per dare modo anche ai tifosi di poter seguire un po' questa fase avete già deciso quale sarà la località? La decisione diciamo è quella nel senso che chiaramente Norcia non è dietro l'angolo come poteva essere vicino la serie del ritiro quindi magari i tifosi sono un po' penalizzati perché comunque bisogna fare un po' più di 200 km per andare a vedere la squadra però riteniamo che anche a livello climatico Norcia, oltre che ripeto a livello strutturale sia fondamentale andare in una località che ci permette di preparare la stagione nel miglior modo però chiaramente ci dispiace molto penalizzare i tifosi inizialmente avevamo pensato di fare una parte di ritiro a Norcia e un'altra parte di ritiro in un'altra località poi anche proprio su richiesta e anche come dici tu proprio per cercare di avere vicino i tifosi che sono e saranno importantissimi nel prossimo campionato pensiamo di fare la seconda parte del ritiro perché comunque la squadra rimarrà in ritiro fino al 31 agosto una decisione che abbiamo preso visto che comunque parliamo di una squadra che sarà totalmente nuova quindi chiaramente per dare proprio all'opportunità sia allo staff che ai giocatori di conoscersi, di preparare a meglio la stagione la squadra andrà in ritiro dal 25 luglio fino al 31 agosto a parte un paio di giorni che daremo per i giorni di ferragosto per stare con la famiglia però la seconda parte di ritiro contiamo di prenderla speriamo intorno ai 30 km vicino a Rimini in maniera tale che tutti i tifosi che la prima parte della stagione non hanno l'opportunità di seguirci invece nella seconda parte lo possano fare dei giocatori di quest'anno non resterà nessuno? adesso non lo so credo che a parte un paio di giocatori che noi saremmo molto contenti che rimanessero che hanno tante proposte quindi adesso che abbiamo fatto il direttore speriamo di fare l'allenatore e soprattutto si firmi questo contratto con i soci poi penso che faremo gli incontri con i due giocatori che avremmo piacere che restassero dopodiché aspetterà soprattutto a loro prendere una decisione perché chiaramente sono giocatori importanti che hanno tante alternative quindi devono maturare se andare in Lega Pro oppure se accettare di fare speriamo un anno di purgatorio con i Rimini e poi tornare in Lega Pro con i Rimini loro sicuramente hanno manifestato che quest'anno sono stati molto bene però credo che comunque sia molto una scelta sportiva e di cuore che devono prendere loro si possono fare i nomi? uno sarà Scotti immagino Scotti sicuramente come sapete è un giocatore che oltre ad avere qualità tecnica importante da giocatore ha dalla parte sua secondo me delle grandi qualità morali è chiaramente anche un legame con la piazza importante quindi noi sicuramente se Francesco decidesse di rimanere e si creassero le condizioni per farlo rimanere noi chiaramente saremmo molto contenti però ripeto al momento chiaramente siamo in una situazione in cui abbiamo fatto ieri direttore sportivo poi ripeto abbiamo fatto relativamente nel senso che non abbiamo ancora firmato quindi ci siamo dati una stretta di mano ritengo che comunque ci aspetteranno per il tempo che mi auguro la prossima settimana si firmi diciamo che la cosa più importante è che siamo arrivati nel momento cruciale adesso è il momento che abbiamo secondo me a partire da mercoledì giovedì e venerdì della prossima settimana bisognerà che tutto quello che è stato detto poi venga fatto in maniera tale che veramente la stagione dei Rimini possa partire e soprattutto potremo festeggiare secondo me eventualmente una grande vittoria io quando sono stato presidente ho parlato di due battaglie da vincere una sportiva una dietro la scrivania al momento purtroppo quella sportiva l'abbiamo persa mentre quella dietro la scrivania siamo ancora in gara per vincerla e ritengo che quella sia veramente una vittoria incredibile insperata per come siamo partiti e ovviamente anche quella più importante perché poi anche vincendo la battaglia sul campo però perdendo quella diciamo dei conti chiaramente poi Rimini non sarebbe potuto andare avanti quindi veramente io ho tanta frenesia spero che questo accordo venga firmato al più presto e finalmente di guardare a Rimini come una società che può programmare la parte sportiva chiaramente ci dovremmo preoccupare anche della parte economica che andrà avanti però senza diciamo un pregresso che in questo momento ci impedisce siamo come impantanati nelle sabbie mobili Gli altri nomi si possono fare? I giocatori? No preferisco di no perché Toscotti è un fatto risaputo insomma che gli altri uno o due giocatori che possono rientrare in una lista ristretta che poi ripeto in ogni caso andrà poi avallata oltre che dal direttore dal mister quindi ripeto al momento noi ancora non abbiamo allenatore quindi poi ci confronteremo con il direttore e con l'allenatore però sicuramente dell'anno scorso arrivare a poco o addirittura forse niente in questi giorni ci sono i campionati primavera le fasi finali proprio qui a Rimini a Sant'Arcangelo magari è stata anche l'occasione per stringere i rapporti con qualche società anche importante anche di Serie A potrebbe esserci qualche premessa per un accordo con qualcuno oppure la Serie D sta troppo stretta a queste società? No ma abbiamo fatto tanti incontri conoscitivi con tanti dirigenti poi parte avevo avuto già il piacere di conoscerli negli anni passati però devo dirti che non rientra nella nostra strategia quella di legarci ad una società io ritengo che una piazza come Rimini debba collaborare con tutti ma nella sua totale indipendenza chiaramente sono società che hanno sapete in Serie D c'è l'obbligo di avere i giocatori under quindi sono società che hanno under importanti anche se riteniamo che non sempre l'under di una società professionistica che magari viene da un campionato primavera poi al primo colpo riesca a fare bene in Serie D quindi siamo anche valutando la ricerca di under che magari hanno già esperienza in campionati di Serie D e che quindi sono un pochettino più formati perché chiaramente nel campionato primavera da un campionato di Serie D che poi l'anno prossimo si alzerà molto di livello rispetto a quello che è stato quest'anno con tutti i giocatori che proprio per una questione numerica e statistica non troveranno spazio tra i professionisti ritengo che avere degli under che hanno magari 30 40 c'è qualcuno che ha fatto anche 60 70 presenze in un campionato di Serie D anche in piazze importanti penso che possono avere un passo diverso da ragazzo che magari ha grandissima qualità che però si è confrontato solo con il campionato primavera che secondo me ha delle difficoltà diverse da quelle che si trova in un campionato di Serie D quindi non sempre il giocatore che fa un grande campionato primavera poi in Serie D ha un impatto positivo Il settore giovanile? Il settore giovanile siamo al lavoro anche in quello con un pizzico di ritardo e abbiamo insomma le nostre priorità che visto che come sapete quest'anno al 99% faremo domanda di ripescaggio almeno per quello nel senso di partecipare ai campionati nazionali per tutelare il nostro patrimonio del settore giovanile che altrimenti sarebbe chiaramente penalizzato da non poter partecipare a quei campionati lì sicuramente un aspetto determinante sarà la ricostruzione di avere una nostra scuola calcio che per noi è un aspetto fondamentale che come sapete credo per qualunque società insomma oggi il futuro si costruisce con i giovani e noi vogliamo rientrare proprio in un punto fondamentale di quest'anno noi vogliamo avere bambini che da quando hanno 5-6 anni si mettano la maglia dei Rimini addosso e magari sanno anche valutare meglio magari dopo 10 anni che hanno fatto il settore giovanile nel Rimini l'attaccamento alla società alla maglia che è chiaramente diverso da prendere ragazzo che ha 14 anni che non ha mai giocato nel Rimini quindi insomma lavoreremo molto soprattutto sulla parte diciamo chiamiamola bassa di età per ricostruire la nostra situazione quindi nei prossimi giorni avremo contatti insomma anche con l'Accademia per capire quali saranno i loro programmi e con altre realtà e poi decideremo insomma quello che sarà quello che sarà il percorso l'unica cosa certa è che il Rimini avrà una sua attività legata sia alla scuola calcio sia al settore giovanile più o meno numerosa ma comunque del Rimini proprio perché riteniamo che i bambini sin da piccoli devono avere la maglietta del Rimini addosso infine cambierà lo sponsor tecnico anche lì abbiamo diverse proposte le stiamo valutando proprio in questi giorni al momento insomma la proposta migliore che abbiamo ricevuto da uno sponsor tecnico migliore anche soprattutto non solo parlo a livello di distribuzione del materiale o quantità del materiale ma anche soprattutto in merito alla volontà di sposare il marchio Rimini noi abbiamo bisogno di uno sponsor tecnico che ci aiuti in sviluppare tutto quello che è la nostra campagna di merchandising di sviluppo del marchio che non sarà solo a Rimini sarà in tutta Italia quindi abbiamo bisogno di un partner che ci supporti in questa attività non solo nel fornire faccio per dire 100 maglie e 100 tute noi abbiamo piuttosto che quello che ce ne da 200 noi vogliamo che la maglia di Rimini si possa acquistare in tanti posti che si possa personalizzare che i tifosi la possano trovare vicino casa riteniamo che il marchio Rimini sia come società sportiva sia come città comunque possa essere poi anche esportato al di fuori della città di Rimini e quindi chiaramente stiamo cercando uno sponsor che ci possa supportare in tutta questa attività che ripeto non sarà solamente quella legata a Rimini ma anche a tante altre località e a tante altre iniziative quindi stiamo lavorando anche in questi giorni grazie a tutti